Musica Buonasera e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Sessantenne aggredito di notte da un gruppo di giovani trasportati a Siena in ospedale e di soccorso non è in pericolo di vita. Grazie a Settimenti. È stato preso a calci e pugni fuori da un locale nel Valdarno Aretino, vittima a un sessantenne che sabato scorso si trovava nei pressi di questo locale pubblico dove all'interno c'era la figlia. È stato aggredito da un gruppo di giovani che poi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero proseguito senza problemi la loro serata in discoteca. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Asle Toscana Sud-Est e l'uomo a bordo del Pegaso è stato trasportato all'ospedale delle Scotte di Siena dove, nelle scorse ore, è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Non è in pericolo di vita. A condurre le indagini i carabinieri di San Giovanni Valdarno, secondo le prime indiscrezioni, alla base della discussione che poi ha portato all'aggressione, ci sarebbero futili motivi, forse, legati alla circolazione stradale. L'uomo sarebbe stato colpito con calci e pugni e avrebbe riportato un trauma cranico provocato, probabilmente, fanno sapere gli inquirenti, da un colpo inferto con un oggetto contundente. Al vaglio dei carabinieri anche le immagini di videosorveglianza. Gli aggressori sarebbero giovanissimi. Un uomo di origini stranieri è stato fermato alla stazione di Bibbiena dai carabinieri perché, in possesso di un coltello della lama di 17 centimetri, molti altri controlli sono stati eseguiti in casentino dai militari dell'arma. Ma sentiamo i dettagli nel prossimo servizio di Chiara Sadotti. È stato fermato con un pericoloso pugnale con una lama di ben 17 centimetri all'interno della stazione di Bibbiena dai carabinieri. L'uomo, un cittadino straniero, è stato così denunciato per porto abusivo di coltello e l'arma bianca è stata sequestrata. Si tratta di una delle operazioni condotte dai carabinieri della compagnia di Bibbiena nella notte scorsa in Casentino. L'arma, infatti, ha organizzato controlli per garantire maggiore sicurezza e prevenire attività illecite. Sono state impegnate numerose risorse e l'attività si è conclusa con diverse operazioni di verifiche e di intervento come controlli su strada e una serie di perquisizioni. Proprio al termine di una perquisizione nell'abitazione di un pregiudicato, i militari hanno trovato dell'Ascish. L'uomo è stato così segnalato. In totale sono stati fermati 62 veicoli. I militari hanno poi identificato 114 persone ed elevato sanzioni al codice della strada per circa 5.000 euro, oltre al ritiro di una patente di guida ad un soggetto che si era messo al volante dopo aver abusato di alcolici. E con la stagione estiva, insieme all'aumento delle temperature e con le finestre aperte, è tornata la puzza, aria mauriodorante che procura anche bruciore agli occhi e alla gola che ormai da quattro anni invade tutta la zona di Chiani, San Zeno, San Giuliano e Battifolle. La conferma arriva dai post sul gruppo Facebook Comitato Aretino Stop Puzzo che in questi giorni hanno subito una nuova impennata nel racconto di uno dei promotori del Comitato Stop Puzzo, l'ingegnere Gabriele Clerissi. Non siamo liberi di fare nulla e il caldo vero deve ancora arrivare. Tra di noi c'è grande delusione perché puntualmente siamo ripiombati nella stessa situazione dello scorso anno. Il tempo passa e i disagi sono sempre gli stessi. Per questo motivo erano stati messi in campo gli annusatori, persone con il compito di annusare l'aria e gli odori presenti. Dopo le prime loro uscite nelle postazioni stabilite, aggiunge Clerissi, non c'è più capitato di vederli all'opera, ci piacerebbe sapere come sta andando il monitoraggio. Ascensori non funzionanti, invasioni di zanzare e tanti disagi sia per i sanitari che per l'utenza dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. La denuncia del sindaco Chiassai Martini, il servizio. Siamo i miei colleghi, sembra normale che un pronto soccorso sia invaso dalle zanzare e che professionisti dentro devono stare a cacciare le zanzare con una racchetta. Io credo che non sia normale. Ma come a livello generale dell'ospedale, quando mi viene detto che è vero che ci sono degli ascensori fuori servizio da mesi, ma ce ne sono altre che funzionano, se è normale per me non lo è. Solamente qualche giorno fa era stata la stessa prima cittadina di Montevarchi a denunciare la presenza di zanzare nei reperti dell'ospedale del Valdarno a seguito di numerose segnalazioni di sanitari e cittadini. Aveva così chiesto un intervento urgente dell'ASLAC nelle ore successive, aveva annunciato interventi di disinfestazione. Adesso però la sindaca torna a chiedere più attenzione per l'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Sono sette anni che denuncio una politica molto chiara di depotenziamento del nostro ospedale e non lo dico io, lo dicono purtroppo i fatti segnalati quotidianamente dai cittadini. Perché a me i cittadini scrivono, come mi scrivono i professionisti che lavorano dentro all'ospedale e in questi sette anni, nonostante il conoscimento di primo livello, niente è cambiato ma la situazione è particolarmente peggiorata. E per me è una vergogna che i miei colleghi non si sia tutti in qualche modo l'una accanto all'altra per cercare di difendere i servizi che esistono e che esistevano nel nostro presidio ospedaliero. Dalla sindaca poi un plauso invece a tutti i sanitari che lavorano nell'ospedale del Valdarno. Abbiamo grandissimi professionisti che oltre ad essere capaci mettono una passione e un amore nel loro lavoro che è fuori dal normale perché lavorare da anni ormai da un punto di vista numerico sottodimensionato in maniera importante, molto spesso, annate intere senza avere un primario che è un altro aspetto che crea grossissime problematiche poi di gestioni del settore. Ecco nonostante questo la nascita, l'aver salvato due vite in emergenza l'altra sera è un altro segnale del fatto che i nostri professionisti fanno il loro dovere anche al di là di condizioni lavorative non accettabili. Quindi è per questo che bisogna continuare in maniera fattiva a lottare per il nostro ospedale. Torna a vita nuova l'antico ponte romanico sul fosso di Valiano in Casentino il comune di Capolona e il consorzio di bonifica numero 2 Alto Valdarno si è adoperato per liberarlo dai rampicanti e dalla vegetazione selvaggia da cui era avvolto e quasi ormai nascosto ed occultato alla vista degli escruzionisti dei boschi che transitavano in questa zona. Chiara Salotti? Abbiamo fatto la nostra promessa di matrimonio, anzi lui ha chiesto a me di sposarlo qui proprio in questo posto, quindi siamo tornati a visitare quest'ambiente proprio per rivederlo rinato. E' considerato che sono passati ormai più di 20 anni, probabilmente anche portato bene. In passato aveva fatto da cornice anche romantiche proposte di matrimonio oltre a merende tra bambini, poi è recaduto nel dimenticatoio nascosto da un fitto in treccio di Edera. Tolta con le mani ovviamente. Tornare indietro una vita perché mi ricordo quando ero piccolina, ero bambina mi ricordo il nonno, mi ricordo gli alberi di frutta. Se facevano merenda con i ragazzi, poi facevano il bagno. Adesso il ponte romanico sul fosso di Valiano torna alla luce grazie ai lavori di manutenzione realizzati a quattro mani dal consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e dal comune di Capolona. Abbiamo fatto un progetto, ciascuno per le proprie competenze per cercare di valorizzarlo al meglio, sia per quanto riguarda il ponte sia per quanto riguarda l'intorno del ponte. L'intorno del ponte è il corso d'acqua che è la manutenzione da parte del consorzio. Una manutenzione particolarmente attenta e accurata. Mamma, ho preso due gilini! Un gioiello storico, un piccolo bepass a schiena d'asino che scavalca il corso d'acqua nei pressi dell'abitato di San Martino Soprarno e che potrebbe risalire ad epoca medievale o tardo-romana. Tutto il casentino ci sono delle cose nascoste che dopo man mano scopriamo. Vederlo così ti viene da pensare, da immaginare chi l'avrà passato, per quale motivo, che cosa congiungeva. Decine le persone che hanno percorso il sentiero, residenti ma anche tanti turisti. C'è molto bello! È un'iniziativa che va ad inserirsi in quello che è il nostro percorso, un po' di valorizzazione, riscoperta e di studio anche di quello che è il nostro territorio, le ricchezze presenti nel nostro territorio. Insieme a quello che è anche un po' il rivivere l'Arno, sono una serie di iniziative che stiamo cercando di svolgere, soprattutto nel periodo di estivo, per riavvicinare appunto le persone e anche le nuove generazioni a questo tipo di luoghi, perché soltanto attraverso la riscoperta e l'emozione di risentirsi appunto a casa in un luogo del genere possiamo continuare a tramandarne la memoria, ma anche l'utilizzo e anche la semplice domenica passarla all'interno del nostro territorio in un luogo così prezioso. E ora parliamo di una donazione. Il Presidente Urbano Dini, i volontari della Croce Bianca, hanno ringraziato la ditta Auri della signora Rita Scannella Panepinto di Subbiano per aver donato 20 magliette al gruppo Soccorritori Nottamboli, cioè volontari che lavorano appunto solo di notte come appunto Soccorritori della Croce Bianca. Grande successo nella notte bianca, shopping sotto le stelle organizzata da Confesercenti nel centro storico di Arezzo sabato scorso, proprio in occasione dell'avvio dei saldi estivi. Momento crudo della serata, la notte dei colori in piazza Sant'Agostino illuminata da migliaia di palloncini. Sentiamo. È tornata nel centro storico di Arezzo la grande festa dello shopping, la notte bianca in concomitanza con l'avvio dei saldi estivi. Un fiume di persone si è così riversato tra le vie e le piazze della città. Penso che le aspettative siano alte perché comunque è un'occasione di acquisto, è un'occasione di, come dire, una boccata d'ossigeno per i commercianti. Peraltro cade insieme alla fiera antiquaria, una fiera molto, come dire, molto frequentata, bella, ricca, quindi una serata, insomma, una giornata importante per la città, la città che è viva, si vede la gente che c'è in giro, molti turisti, molti stranieri, questo ci fa particolarmente piacere, quindi la serata è importante, è una delle serate dell'estate retina che si spera porti i loro frutti. Una notte di acquisti aperitivi, cene sotto le stelle, ma anche musiche di intrattenimento, 300 le attività coinvolte. Le aspettative, come sempre, quando partono i saldi, sono molto alte, anche perché poi questa è stata anche una stagione, diciamo, non brillantissima, per tutta una serie di motivi, sia climatici, ma anche e soprattutto legati anche al potere d'acquisto e quindi un po' ancora, diciamo, le famiglie risentono dell'inflazione e quant'altro. I saldi quest'anno iniziano, in questo primo sabato di luglio, fortunatamente iniziano dappertutto uguali, quindi anche nelle regioni limitrofe, e questa è una cosa molto importante. I saldi hanno un po' cambiato, nel senso che prima si consumavano nei primi 15 giorni, e, diciamo, negli ultimi anni, invece, hanno un'onda un po' più lunga, quindi sicuramente, diciamo, un saldo per capire come vanno, fra virgolette, i saldi, lo potremmo fare tra una settimana e dieci giorni, non prima. Però, insomma, il shopping sotto le stelle nasce proprio per portare la gente in centro, per promuovere i saldi, per far sì che poi le persone trovano un clima accogliente, un po' di divertimento per, diciamo, fare gli acquisti e stare in compagnia. Novità di questa edizione di Shopping sotto le stelle, la collaborazione con la Casa Museo Ivan Bruschi. Tutti coloro che acquisteranno nei negozi, nelle oltre 300 attività del centro storico, questa sera per la prima notte dei saldi estivi, potrà entrare nella Casa Museo Ivan Bruschi e potrà vedere, scoprire la Libera Maniera, che è una delle ultime mostre, appunto, che interessano Casa Bruschi. È un gioiello meraviglioso incastonato, appunto, tra il centro storico di Arezze, quindi sicuramente sarà un luogo da visitare e speriamo che i scontrini siano tanti. Immancabile, infine, in piazza Sant'Agostino, la notte dei colori con oltre 2.000 palloncini a LED. Arezzo, guardate che spettacolo! E a proposito di shopping sotto le stelle, a fattore D, la nostra trasmissione del lunedì tutta al femminile, e questa sera sarà ospite Valerio Alvisi, direttore di Confesercenti Arezzo. Assaggi tra le mura di Cigiano, una festa al borgo della frazione di Civitella che ha tirato centinaia di visitatori e commensali in un percorso del gusto immersi nei piatti tipici della Val di Chiana, il tutto innaffiato da buon vino locale, terminato con musica disco e ballo. Grazie a sentimento! Grande successo per la 25esima edizione di Assaggi tra le mura nel borgo di Cigiano, frazione del comune di Civitella in Val di Chiana. La manifestazione, che si svolge ogni primo sabato di luglio di ogni anno, vede coinvolta un'intera comunità, grazie all'organizzazione della Proloco. Una festa che unisce varie generazioni e che si svolge qui nel centro storico di Cigiano riscoprendo questo borgo, questa parte del paese che ai più è sconosciuta e che ha una storia millenaria e che però oggi tentiamo di recuperare dopo l'abbandono degli anni 70-80, oggi insomma cerchiamo in tutti i modi con qualche nuovo insegnamento di recuperarla. Questa bella festa cerca di valorizzare questo luogo. Centinaia le persone che arrivano da ogni angolo della provincia, ma anche oltre circa 500 i commensali che si sono potuti godere una cena tipicamente toscana, annaffiata dai vini tipici dell'Aretino con tappe gastronomiche dislocate negli angoli più suggestivi del borgo. Spazio anche al cibo per l'anima, con la presentazione del libro di Lorenza Maria Mori, Sim, il parassita. Dunque è l'arrivo di una creatura aliena che viene interpretata, per esempio la Sim, il parassita, di una creatura aliena in un paesino della Val di Chiana. arriva dal cielo, dall'universo, insomma, e possiamo dire che comincia a contagiare un po' di persone e bisogna capire nel corso del libro se è un contagio oppure se è una cosa molto diversa, più positiva, che magari serve un po' a cambiare la vita della gente della Val di Chiana in meglio. E la mostra fotografica di Roberto Lavini. Iniziamo dalla cianotipia che risale intorno al 1840 per finire poi con procedimenti di stampa alla gelatina d'argento che sono invece quelli un po' più recenti. Sono tutti procedimenti fotografici, cosiddetti analogici, o meglio zero pixel, cioè senza digitale, esatto. La serata si è conclusa con tanti balli e divertimento curati da Lorenzo Paggetti e Omero Enfrens. Un applauso all'organizzazione di Cicciano per assaggi fra le mura. E ora ragazzi, scatenatemi e basta! Su le mani, su le mani! Oh, come vai! Passiamo all'Arezzo con il calcio. Si è incontrata la squadra con il raduno di ieri sera a Rigutino presso il centro sportivo Giussi Conti. Il nuovo Arezzo di Emanuele Troise quindi ha dato il via di fatto alla nuova stagione. Il debutto ufficiale sarà in Coppa Italia contro la Vis Pesaro in trasferta con l'incontro che avverrà domenica 11 alle ore 21 da stamani tutti in campo anche se i prossimi giorni saranno dedicati soprattutto alle visite mediche dei calciatori convocati e a una fase conoscitiva tra la rosa attuale, lo staff tecnico composto oltre che da Troise anche dal vice di Cecco, dai preparatori atletici Basile Pecorari, dal preparatore dei portieri franzesi la preparazione vera e propria partirà da metà mese. Del gruppo almeno iniziale faranno sicuramente parte i portieri Trombini e Borra i difensori Chiosa, Lazzarini, Gigli, Montini, Malocu e il nuovo acquisto Bigi oltre ai centrocampisti Settembrini, Damiani, Mavuli, Catanesi, Bianchi e Di Giovane Fiore e gli attaccanti Pattarello, Guccione, Gaddini, Iori e Gucci c'è poi anche il difensore Masetti che però deve proseguire il proprio recupero dall'infortunio al crociato delle ginocchia e quindi non potrà al momento aggregarsi alla squadra nel frattempo è svitata l'ufficialità per il ritorno del terzino sinistro Lorenzo Coccia sul mercato l'Arezzo è a caccia di un difensore centrale per completare il reparto arretrato oltre al nome di Matteo Gilli classe 97 del Picerno c'è anche quello di Dario del Fabro del 95 cresciuto nelle giovanili del Cagliari attualmente gioca in Super League in Svizzera con Liverdoa e militato anche nel Pisa in Serie B nella stagione 2016-2017 con 34 presenze nella sua carriera anche il Cittadella, il Klimarnock in Scozia, il Den Haag in Olanda e il Sering in Belgio del Fabro però è sotto contratto per altre due stagioni ancora in Svizzera altra storia invece per quello che riguarda il reparto avanzato quindi l'attacco chiusa l'operazione per l'Under Aramini classe 2005 6 gol in Serie D con la Romana c'è anche l'interesse e qui sai il sogno più grande per i dirigenti a Maranto c'è l'interesse per l'attaccante del Rimini Claudio Morra classe 1995 con uno score di tutto rispetto nella scorsa stagione 20 gol nella squadra romagnola anche lui però è sotto contratto fino al 2026 bisogna vedere cosa succederà con la clausola recessoria ma ci sono anche altre squadre a seguire questo giocatore rimaniamo nell'ambito del calcio ma quello amatoriale e di solidarietà perché stasera si svolgerà presso l'oratorio di San Leo il primo memorial di calcio 5 intitolato Claudio Giusti ricavato di queste iniziative del CSI, il centro sportivo italiano collegato a questo memorial serviranno per l'acquisto di un defibrillatore per la comunità retina di San Domenico in campo scenderanno a scontrarsi in un triangolare la Clericus Rezium ormai nota squadra composta da sacerdoti e religiosi allenata da Mario Palazzi la Scorrida composta dal comitato che organizza l'omonima e divertente rassegna estiva e l'APS Pionta Rezzo la squadra speciale degli utenti e volontari operatori della salute mentale dell'ASL Toscana Sud-Est e chiudiamo con l'ufficializzazione degli staff dell'Arezzo Calcio Femminile che sono stati confermati per la stagione 2024-2025 come allenatrice confermata quindi Ilaria Leoni vice allenatrice e match analyst la fiancherà Marco Merola preparatrice atletica invece Martina Nesci il preparatore dei portieri Massimo Marcacci con il vice Carlo Alberto Leccardi team manager sarà Roberto Cucciniello nello staff sanitario invece responsabile sarà il dottor Cenk Capsiu bene questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito vi ricordo ancora l'appuntamento con Fattore D questa sera sempre su Arezzo TV e vi rimando ai prossimi appuntamenti per quello che riguarda le notizie